Ciao ragazzi, vorrei farvi vedere solo una piccola stanza, quelli che sono spenti sono perché sono ancora a 110, una piccola stanza di quello che vi aspetta a fine settimana, tanto per farvi una piccola idea di tutto quello che, ciao Andrea, stiamo preparando. Ci siamo quasi, questa è una stanza, questa è una stanza, ce ne sono altre quattro e questa è in allestimento, ve la faremo vedere più avanti. Ciao Lorenzo!